La città che vorrei, non sono fiorentino ma vengo spesso a Firenze per la mia carica all'istituto, è difficile, però in una parola vorrei una città che avesse più rispetto delle sue grandi risorse culturali che le vedo un po' soffocate da un turismo un po' superficiale, un po' troppo numeroso e io credo che ci sia il modo di salvaguardare questo patrimonio dando anche aperture a questo turismo, ci vuole un po' più di equilibrio e credo che ne sarebbero avvantaggiati tutti, sia l'industria turistica che l'organizzazione culturale.